Un cordiale saluto a tutti da parte di Andrea Broniese, siamo a Bottrighe, provincia di Rovigo, nel parco regionale del Delta del Po e stiamo osservando proprio il fiume Po, ingrossato dopo le piogge di questa ultima settimana che ha visto anche l'esondazione del bacchiglione e gravi problemi a Casalserugo, provincia di Padova, ad una cinquantina di chilometri da qui. Questa mattina il sindaco Massimo Barbujani del comune di Adria, della sezione R1 per quanto riguarda la protezione civile che ha prestato anche validi volontari alla crisi di Casalserugo, il sindaco come stavamo dicendo ha indetto una riunione per stabilire i punti guida di possibili interventi sul territorio coadiuvando protezione civile e tutte le forze impegnate per la salvaguardia dei cittadini. Grazie a tutti!